E buona serata a tutti, eh? Non ve l'aspettavate, eh? Che andiamo in onda anche stasera. E invece, eccoci qua. Non ho avvertito, ma sono sicuro che molti di voi saranno a casa a spippolare Facebook, tanto perché non sapete che cazzo fare, e quindi, mentre spippolate Facebook, vi potete beccare la mia diretta di mezzanotte sui cult movie più interessanti da vedere in questo frangente di quarantena e clausura forzata. Come tutte le volte, vi voglio presentare un film particolare, e anche questo sabato sera si tratta veramente di un cult movie che più cult non si può, anche se dobbiamo dire che non è per tutti i gusti, diciamo per tutti gli stomaci. Vabbè, diciamo che quando è uscito questo film è stato forse il primo film assolutamente censurato, mai uscito in Italia, vietato in Inghilterra, super tagliato, probabilmente avete già capito a che cosa mi riferisco, e il film è Freaks, di Todd Browning. Freaks è un film che ha una particolare importanza nella storia del cinema horror, diciamo così, anche se non è prettamente un film dell'orrore, però viene normalmente ricondotto a questo genere, anche perché è forse il film più famoso assieme a Dracula, di Todd Browning, questo regista americano molto attivo nel periodo del muto, ma i cui più grandi successi furono appunto nel cinema sonoro, quindi con Dracula, con Bela Lugosi, che è stato forse il primo, intanto il primo film appunto intitolato a Dracula come personaggio, anche se prima c'era stato sicuramente uno sferato di Murnau, che prendeva dallo stesso romanzo di Bram Stoker, però cambiando i nomi perché non avevano avuto la concessione dei diritti, e il Dracula di Todd Browning con Bela Lugosi è sicuramente quello più iconico che tutti ricordano, con tutte le frasi più famose dette per la prima volta, tipo io non bevo mai sangue. Comunque, tolto Dracula parliamo di Freaks, che Browning girò esattamente l'anno successivo. Di che cosa parla questo film Freaks? Lo dice il titolo stesso, di una serie e una storia di artisti circensi che un tempo avremmo definito, tra virgolette, scherzi di natura, insomma comunque c'è una serie di personaggi tipo l'uomo scheletro, la donna barbuta, il torso umano, privo di braccio e di gambe, personaggi affetti da microcefalia, da altre malattie variamente deformanti, ragazze senza braccia, gemelle siamesi, insomma chi più ne ha più ne metta. Ed è questo il motivo per cui questo film non è per tutti i gusti, perché queste sono veramente persone affette da questo tipo di problematiche riprese nel film. Cioè non ci sono effetti speciali, gli effetti speciali che si vedono sono reali. Cosa succede in Freaks? Freaks ha una storia veramente molto... Ciao Maurizio, ecco qualcuno che comincia a collegarsi. Freaks ha una storia molto lineare, molto semplice. Siamo in un ambiente di circo negli anni Trenta, c'è appunto tutta questa serie di personaggi, i cosiddetti Freaks, all'interno di questo gruppo di scherzi di natura che la gente pagava per andare a vedere nei circhi americani dell'epoca, c'è una coppia di nani, Hans e Frida. Hans e Frida sarebbero fidanzati, ma Hans mette gli occhi su Cleopatra, la trapezista. Cleopatra è uno degli unici due, diciamo, personaggi normali, tra virgolette, del film, assieme a Ercole, l'uomo forzuto. Cleopatra e Ercole ovviamente se la fanno dietro le quinte, Hans si innamora di Cleopatra. Cleopatra e Ercole si mettono d'accordo per far sì che lei in un certo modo, diciamo, accetti la proposta di matrimonio di Hans solo per il fatto che lui è pieno di soldi e quindi vorrebbero poi ucciderlo e prendere i soldi. Cosa succede? In una memorabile scena in cui tutti i freaks festeggiano, diciamo, il fidanzamento del nano Hans con la trapezista Cleopatra, scena che vi farò vedere perché è praticamente quella più iconica del film, tutti i freaks le cantano questa canzone, ti accettiamo, sei una di noi, gobble gobble, gabble gobble, sei una di noi, insomma, come lo dico io fa cagare, però poi ve lo faccio vedere abbastanza agghiacciante. Lei si in albera, non vuole essere considerata deforme come gli altri e da lì i freaks cominciano a capire che c'è qualcosa che non va. Da quel momento in poi Ercole e Cleopatra cominciano a tentare di avvelenare o di uccidere in tutti i modi il nano Hans, quando gli altri freaks se ne rendono conto scatta la vendetta in una tremenda notte di tempesta, praticamente il torso umano, l'uomo scheletro, le gemelle si amesi tutti quanti, vanno addosso a Ercole e Cleopatra, uccidono lui e mutilano lei in maniera orribile, tagliandole le gambe, cavandole gli occhi, schiacciandole le mani, eccetera, eccetera, in modo tale che alla fine del film praticamente Cleopatra viene presentata come effettivamente uno dei freaks, la donna gallina. Il film finisce in questo modo, ma in realtà non sarebbe finito così. Il film che vediamo oggi, che potete vedere su YouTube in versione completa, e appena mi funziona di nuovo, ecco, vi posso mettere, copiare il link nei commenti. Qua potete vedere quindi il film Le Freaks e Schick, esattamente. Esattamente. Un attimo che mi prendo il tempo di caricarvi il link del film, e intanto vi dicevo, il film in realtà dura poco più di un'ora quello che riusciamo a vedere oggi, perché in realtà Todd Browning aveva fatto un film di un'ora e mezza, un'ora e quaranta, come era logico fare anche allora. Il problema qual è stato? Che negli screening al pubblico di Los Angeles ci sono stati alcuni casi che sono, possiamo considerare oggi, diciamo, i primissimi casi di marketing cinematografico di film horror. Una donna, scioccata dalle scene che aveva visto nell'ultima mezz'ora del film, ebbe un aborto spontaneo nel cinema e denunciò la MGM per questa cosa qua, che chiaramente fece ritirare il film, chiese tagli pesantissimi a Todd Browning, quindi da un'ora e mezza, un'ora e quaranta è diventato un film di un'ora e qualche minuto. Il film è stato vietato in Inghilterra. In Italia non è arrivato per niente nelle sale, è arrivato per la prima volta, e io lo vidi in quel frangente, nel 1983 in un programma notturno di Enrico Ghezzi che presentando questo film lo portava appunto all'attenzione del pubblico italiano per la prima volta. Cosa succedeva in questa mezz'ora di tagli? Semplicemente si vedevano esplicitamente tutte le mutilazioni che i Freaks facevano a Ercole e a Cleopatra, quindi l'uomo forzuto veniva praticamente castrato e costretto poi a cantare in falsetto, vestito da donna, negli successivi spettacoli del circo, quindi non più uomo forzuto, ma praticamente tipo Farinelli e sopranista. Mentre invece Cleopatra, come ho detto, subiva una serie di mutilazioni che però nella copia che si può vedere attualmente del film, quella che rimane, semplicemente si vedono tutti questi Freaks che le vanno addosso, stacco di solvenza al nero, nella scena successiva si vede praticamente Cleopatra trasformata in donna gallina. In realtà nel minutaggio tagliato c'era il taglio delle gambe, si vedeva quando le cavavano gli occhi, quando veniva praticamente deformata, le schiacciavano le mani fino al risultato che effettivamente c'era. E sicuramente doveva essere stata una cosa molto forte per l'epoca, era il 1932, Todd Browning con questo film si è completamente rovinato la carriera, perché non è più riuscito a fare film, ha fatto un paio di altri film, sicuramente La Bambola del Diavolo nel 1935, ma poi praticamente la sua carriera è finita veramente totalmente in disgrazia. Vi faccio vedere la scena della cena, la cena in cui i Freaks, tutti contenti, no, nessun effetto speciale, perché, ah beh no, i Freaks non erano reali, non erano effetti speciali. Il fatto delle mutilazioni fatte a Cleopatra, sì, probabilmente era fatto con effetti speciali dell'epoca, però noi non lo possiamo sapere perché non si sono mai viste, le scene sono andate perdute. Ecco questo, Pinhead o Schnitzel, la accettiamo come una di noi. La donna barbuta, l'uomo scheletro. Ecco, Cleopatra ed Ercole si ubriacano perché ancora ridono, perché pensano sì sì, tanto comunque poi lo freghiamo e lo uccidiamo. Cleopatra comincia a rendersi conto che i Freaks vogliono veramente considerarlo uno di loro e questa cosa la offende particolarmente. C'è questo nano che offre un tipo grolla dell'amicizia a tutti i Freak, in una sorta di comunione tra personaggi del circo. Vedete che lei fa la faccia sempre più orripilata. Esiste anche un trailer ufficiale di Freaks, che però non vi faccio vedere perché è di una palla smisurata, si vede solo l'impresario del circo che dice vi faremo vedere delle robe inenarrabili. La grolla è perfetta per il coronavirus, è un simbolo. Google Gobble, Google Gobble, ecco qua che lei si rivela per la stronza che è. E questo era un pezzo tratto dal Warner Archive. Freaks è un film che ha avuto una notevole influenza, pur essendo ad esempio in Italia arrivato solo nei primi anni Ottanta, quindi dicevo nel 1983 Enrico Ghezzi in una delle sue scorribande notturne su Rai 3, tipo fuori orario, non so se era già fuori orario, comunque vabbè, lo presenta per la prima volta al pubblico italiano. Chi ne è stato particolarmente influenzato? Vabbè, ad esempio mi viene in mente Tiziano Sclavi nei primi numeri, ma comunque in tutti, in tutta sotterranea la produzione di Dylan Dogg, Freaks è un film che ha lasciato un marchio indelebile, credo nella sua mente per la scrittura poi che ha avuto nei fumetti di Dylan Dogg, perché Freaks presenta i freak come la normalità, cioè tutto è visto dal punto di vista dei freaks. le persone, i cattivi, le persone devianti, sono i cosiddetti normali, questa è la base della maggior parte dei numeri più felici, diciamo, di Dylan Dogg. Ma poi Freaks, per esempio, anche Tobe Hooper, certo, a me quello che Freaks fa soprattutto venire in mente sono due direttrici particolari, da una parte Tim Burton e dall'altra David Lynch. Per esempio, se pensate ai Razorhead di David Lynch o a Elephant Man, sempre di Lynch, prodotto da Mel Brooks, questa è una cosa che non tutti sanno, cioè si può tirare, diciamo, una linea rossa anche da Frankenstein Jr. a Elephant Man di David Lynch, che comunque è prodotto da lui, infatti è uno dei film più, tra virgolette, melodrammatici di Lynch, un po' meno magari sperimentali, ma più di cuore. Ecco, comunque, sia i Razorhead che i Elephant Man sono due film che prendono di peso dall'estetica e dal tipo di narrazione di Freaks. E dall'altra parte anche Tim Burton, comunque sicuramente ha visto e studiato questo film in una linea, anche qui, che da Freaks e da Todd Browning arriva a Ed Wood, il cosiddetto regista peggiore della storia del cinema, quello che faceva i film trash, proprio convinto che fossero bei film, che poi è stato ripreso appunto da Tim Burton nel film omonimo Ed Wood, dove Ed Wood era interpretato da Johnny Depp e Bela Lugosi, icona appunto del cinema di Todd Browning, era interpretato dal compianto Martin Landau. Niente, questo per dire che è uno dei miei cult movie personali che vi consiglio sicuramente di vedere, non vi ho messo il link su YouTube, perché non vi ho messo il link su YouTube? Aspettate, giustamente, forse lo vorreste vedere, visto che è una visione molto, molto gradevole e simpatica in questi tempi. Inversione Buoni e Cattivi torna anche in The Babadook. Sì, sai che tra l'altro in questo momento c'ho un'amnesia fantasmagorica, perché Babadook è uno degli horror che mi sono piaciuti di più nel decennio scorso. Ricordo perfettamente la metafora del trauma infantile, del Babau, eccetera, ma non mi ricordo esattamente perché tu stai dicendo questa cosa dell'inversione Buoni e Cattivi. Forse c'entra la madre, ma in questo momento ho un'amnesia. Comunque, commentate pure, che intanto io cerco un attimo di mettervi il link, ma non capisco più perché l'altra volta ero riuscito, e invece questa volta non riesco a trovare la live, che sto facendo, la live con lo smartphone, ma non la ritrovo sul PC. L'altra volta invece l'avevo trovata, e vabbè, 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 vabbè. Comunque, niente, si trova su YouTube film completo, cercate Freaks Film Completo, lo trovate subito, tra l'altro, in un'edizione inglese, però con i sottotitoli in portoghese, così potreste imparare anche la doppia lingua. Ah, ecco, è vero, è vero, adottano il mostro alla fine, è vero. Abbiamo spoilerato anche The Babadook, ok? Babadook, che personalmente, appunto, come immagino anche per Enrico, è uno dei miei cult degli anni dieci. Una volta magari facciamo una cosa sui migliori film degli anni dieci, in queste live invece cerco prevalentemente di andare un po' indietro nel tempo, così per trovare qualcosa di veramente inedito per la maggior parte di voi. Oh, su questo vi saluterei, perché non voglio tirarla troppo in lungo, mi fa piacere che siate venuti anche questa volta, saluto tutti, Silvia, Enrico, Elisabetta, Maurizio, quelli che ho visto che si sono collegati, e niente, buon sabato sera di clausura, tenete duro tutti, incrociamo le dita e resistiamo. Grazie.